Ciao a tutti, l'evento più atteso del momento sta per cominciare. Iscriviti con noi alla Race for the Cure, la più grande manifestazione mondiale per la lotta ai tumori del seno. Si svolgerà a Matera dal 27 al 29 settembre. Potrai correre, passeggiare, donare o semplicemente partecipare a distanza. Tutte le associazioni della Matera Sport Academy sostengono con entusiasmo la Race for the Cure. Tutti insieme possiamo fare la differenza e rendere la malattia del tumore al seno sempre di più curabile. Grazie e vi aspettiamo numerosi!